Leggere, scrivere e far di conto, soprattutto in quest'ultima competenza, ovvero in matematica, è bravissimo, anzi campione olimpico, il rosatese Enrico Zonta, studente del liceo da ponte di Bassano. Dopo aver vinto il titolo italiano meno di due mesi fa a Cesenatico col punteggio massimo, si è confermato anche nella competizione internazionale svoltasi nei giorni scorsi nel Regno Unito. Zonta ha vinto la medaglia d'oro con 29 punti su 42, migliorando il bronzo del 2023, sbaragliando la concorrenza di oltre 600 colleghi e colleghe. Complimenti e congratulazioni dall'Ufficio Scolastico Regionale sono arrivati ad Enrico, che ha appena chiuso il quinquennio di Scienze Applicate, al dirigente scolastico Mario Tedesco e agli insegnanti Chiara Rubbo, Angelo Cremasco, Cinzia Ferrante e Silvia Alessi. La squadra italiana si è piazzata al 14esimo posto su 108 partecipanti.